Il convegno è estremamente interessante perché il tema della comunicazione sui social media dei soggetti pubblici, degli enti pubblici è un argomento molto molto importante. Io ho notato che da un lato c'è questo entusiasmo nella comunicazione che è molto positivo, dall'altro in realtà credo che gli enti pubblici, le città, le città metropolitane, ma qualsiasi soggetto pubblico in realtà non ha capito il potenziale per cui tendenzialmente comunicano male. Non si rendono conto che è vero che il media è molto immediato, però in quanto soggetti pubblici devono comunque comunicare in maniera molto strutturata. Allora, così come oggi qualsiasi soggetto pubblico è strutturato per avere una comunicazione strutturata nei confronti dei media tradizionali, io credo che sia opportuno che si cominci a strutturare anche per poter fare una comunicazione più immediata, ma nello stesso tempo autorevole, sui social media. Sono estremamente ottimista che questo si possa fare a breve, però effettivamente c'è bisogno di una consapevolezza e di decisioni politiche che effettivamente è tempo per rendere, specialmente poi in Campania, a Napoli, dove i tempi di attivazione di queste iniziative sono stati un po' troppo lenti.